Sto scherzando, eh, oggi sto per fare una battuta Se vuole, la invio La invito e mi ho messo su mondo Guardi, non ce l'ho Non ce l'ho Fortnite, quindi è un po' difficile che mi invidi Però guarda, me lo puoi... Mi farò far vedere magari in condivisione su Discord Capite, in condivisione su Discord volentieri Ma... Nooo, oh buh, che pa... Yadu, premere F e sta calmi, ho fatto il contrario Vabbè, ma Red Red, puoi farmi la condivisione su Discord Mentre giochi, vedo il tuo mondo Qual è il problema? Ma, non credo che... Curiamoci qua, no? E' un attimo che ho dovuto risolvere overcharge Sto da Switch Ah, è vero, vero Tu giochi da Switch, perdonami Staccunando E' un attimo che ho dovuto risolvere E' un attimo che goz low Ho, ho ho E' più E' più E' più Ma, non credo che E' più E' più E' più E' più E' più E' più Sì, sì, sì. Grazie. Ma come? Scusami, lui come faceva a sapere che ero qua? Però mi perdoni. Eh, ho capito che era lo specchio. Ma come faceva a sapere che ero lì? Non ho corso. Io lo vedete, raga? Lo vedete attraverso le tende? Ma cosa? Ah, pensavo volesse giocare. No, vabbè. Pensavo volesse fare tipo io... Ufficio segreteria. Ufficio segreteria. Ma questo come fa? Tutto mago, lui. come m'ha visto dietro il pezzo di un armo ah l'ho sentito tu mi devi spiegare ora tu mi devi spiegare ora lui è venuto dritto qui da me cioè guarda ha smesso anche di inseguirmi mi metto qua tutto mago tutte le magie lui no che fa slag fa lo bastardo ma io ora sono qua fuori no cioè lui non può sapere che sono qui le scie sono sparite da tanto tempo ok 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 ti giuro ho sentito il suo respiro al di là della porta signor Myers non possiamo trovare un accordo non 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 ah ah il perché dei corvi forse insomma c'è il perché dei corvi ecco chi mi sente ah ok dicevo io manco mi insegue cazzo fossi stato un po' più preciso ma ce l'ha con me ora non mi ha inserito cioè mi colpiva e se ne andava ma mi viene presso non ho capito ma iers ma iers ma guarda guarda però che guarda in alto e lo sa il forestero cerchiamo un altro oggetto dai un altro medit dai no qua non mi metto eh non ho capito a me mi appende a quello lo slug ma chi è non mi scusi non possiamo stare qui tutto il giorno che è st mafia che a lui lo slug e a me viene a prendermi prendermi oh dove dove era frate ma ha fatto dov'era dov'era vabbè io vabbè io già ero ultrapassato però io non mi che mi 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 Vai ho tankato Ho tankato Vai No A lui l'hai slagato Ma perché lui No No Eh no Non vale Non vale Non vale Non vale Non vale Non vale Ho fatto il forestero io Madonna 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 cara